Con una vittoria per 1-0 la nuova Sondro Calcio torna prima in classifica sempre in coabitazione con il Mapello, prima in classifica nel girone B di eccellenza. Ne parliamo questa sera a unica Calcio Sondrio. Ne parliamo con il preparatore atletico Tommaso Dal Nero. Tommaso, buonasera. Buonasera a tutti. Insomma, parleremo sia della partita ovviamente sia del campionato, però anche degli allenamenti perché alla Castellina non sono banali. Ne abbiamo già parlato ancora qualche settimana fa, ma adesso ne parleremo in maniera più approfondita. Intanto una vittoria di misura, però erano i tre punti che servivano, erano fondamentali. Sì, è stata una vittoria importante. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Il Tribiano anche all'andata aveva messo in mostra un grande calcio. Ci siamo preparati bene in settimana, sapendo dove potevamo andare a far male a squadra avversaria. È stata una vittoria importante per 1-0, ma penso che abbiamo avuto veramente tante occasioni dove potevamo far meglio. Però ci portiamo a casa questi tre punti dove abbiamo avuto una squadra solida, soprattutto in fase difensiva, compatta. E si è visto proprio ieri la voglia di portare a casa questi tre punti dove abbiamo fatto veramente una partita di qualità, di solidità. Perfetto. Andiamo a vedere anche gli altri risultati del Girone B di eccellenza. Con Alta Brianza Mapello 0-0, Arcellasco Fanenghese 1-2, Leon Castelleone 3-0, Muggio San Pellegrino 1-0, Soncinese Cisanese 0-0, Soresinese Brianzo Alginatese 0-1, Trevigliese Calozio Cortè 7-2, Tribiano Nuova Sondrio 0-1 e Visnoa Valemine 0-1. La classifica vede la Nuova Sondrio e il Mapello in cima a 57 punti, quindi Leona 56, Trevigliese 52, Alta Brianza 50, Offanenghese 45, Cisanese 39 punti, Trebiano e Muggio 36 punti, Soncinese 34, Lemine 32, Arcellasco 29, San Pellegrino e Soresinese 27 punti, Calozio Cortè e Brianzo Alginatese 26, Castelleone 23 e Visnoa 21 punti. Andiamo ora a vedere la sintesi della partita e le interviste prese da Eugenio Gizzi. Con una prestazione di carattere la Nuova Sondrio Calcio espugna il campo del Trebiano, finisce 1-0 per i Biancazzurri che ritrovano la vetta nel girone B di eccellenza, seppur in coabitazione con il Mapello. Davanti agli esponenti di Grup Sassela e Bois Sondrio, i valtellinesi trovano la rete al primo minuto, dalle retrovie Cugola gioca in avanti, il pallone arriva Martinez che serve muletta, palla restituita al bomber spagnolo e destro preciso nell'angolino. Al sesto Ceciua si libera sulla destra dell'area e scaglia un tiro di collo pieno verso Rodriguez che para con bravura. Al sedicesimo i Biancazzurri vanno un passo dal raddoppio con Martinez che si presenta solo davanti ad Aglio, bravo a ribattere, busto deposita in rete ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Ultima emozione del primo tempo, una punizione di Bagie dal limite dell'area deviata in corner. Al 75esimo il portiere Biancazzurro si esibisce nella parata più difficile dell'incontro, deviando oltre alla traversa un tiro di Franceschinis dal limite e finisce con tre punti importantissimi per la nuova Sondrio che domenica ospiterà il Visnova Giussano. Su un campo dove una sola squadra aveva vinto durante la stagione la nuova Sondrio riesce a imporsi per 1-0. Ma che partita è stata Dario? È stata la partita che ci aspettavamo, sapevamo che era un avversario tosto in casa quindi sapevamo delle difficoltà che avremmo trovato ma d'altra parte ero sereno perché avevo visto il gruppo allenarsi molto bene in settimana e quindi sapevo che eravamo molto preparati a fare questa partita qua infatti sono molto molto contento, le faccio un applauso ai ragazzi perché sono stati molto bravi. Quante emozioni questa settimana Nico, prima la nascita di Donato alla quale veramente ci uniamo per le congratulazioni che ti sono arrivate anche da personaggi importanti e poi questa partita finita 1-0 sembrava non finire mai ma avete fatto veramente una grande grande prova Nico. Prima, anzitutto voglio ringraziare ai tifosi che hanno stato incredibili come sempre giocatori numero 12 in campo voglio salutare alla mia moglie e anche Donato emoziono perché come hai detto te una settimana piena piena di emozioni abbiamo preparato bene questa partita i ragazzi del gruppo stanno lavorando tantissimo il mister ha dato un'idea di gioco in poco tempo la stiamo mettendo in gioco, in campo e sono molto felice per loro voglio ringraziare il gruppo giorno dopo giorno stiamo lavorando per portare via questo campionato Il prossimo turno si giocherà questo sabato e questa domenica e vede sabato 23 marzo alle 14.30 Castellione-Soresinese mentre domenica è alle 14.30 Calolzio-Corte-San Pellegrino Cisanese-Ofanenghese-Leminar-Cellasco Mapello-Tribiano-Muggio-Alta-Brianza-Nuova-Sondrio-Visnova Soncinese-Leon e Brianzo-Ginatese-Trevigliese quest'ultima alle 19.30 Ecco partita di domenica vinta 1-0 vinta subito nei primi minuti insomma è arrivato subito all'inizio gol di Martinez insomma un giocatore fortissimo tra l'altro perché ha fatto cos'è 16 a 7 gol adesso ormai ho perso il conto insomma come è avere questi giocatori in questa categoria? No sicuramente la nostra rosa ha una qualità importante io penso che questa squadra avendo avuto anche tanti ragazzi di quest'anno come compagni l'anno scorso so che hanno una qualità molto superiore alla categoria dove giocano sono sicuro che il nostro potenziale ancora al massimo non è stato espresso quindi sono convinto che queste sei partite potremo fare ancora meglio e mettere in mostra veramente quello che siamo adesso mancano veramente sei finali la stagione è partita il 25 luglio tanto consentimi di ringraziare Fabio Fraschetti con il quale abbiamo condiviso sei mesi importanti un percorso partito appunto il 25 luglio dove abbiamo fatto molto bene poi purtroppo c'è stato un calo a dicembre adesso ho iniziato poi un altro nuovo percorso con il mister Dario due professionisti con il quale è un piacere per me lavorare ho avuto il piacere di lavorare prima con Fabio appunto un professionista e adesso con il mister un altro professionista con il quale vado molto d'accordo vediamo tante cose allo stesso modo veramente lavoriamo dalla mattina alle 8 e mezza fino alla sera alle 7 e beh è giusto così sì sì no ci divertiamo ci divertiamo poi quando fai un lavoro che ti piace la fatica non la senti quindi questa è la cosa più importante l'entusiasmo con il quale si lavora fa la differenza sempre e no infatti questo è giusto insomma tra l'altro hai detto bene prima hai avuto alcuni giocatori di quest'anno delle rosa di quest'anno con i compagni di squadra ricordiamolo tu l'anno scorso giocavi in difesa sei stato uno degli artefici comunque della promozione scusate il gioco di parole dalla promozione all'eccellenza però poi ecco appunto hai deciso di passare dall'altra parte della barricata mettiamolo così insomma di passare in panchina come preparatore atletico ne abbiamo già parlato però giusto per chi non lo sapesse ancora intanto non è una scelta presa così e non insomma non ti sei inventato nulla già stavi lavorando per diventare quello che sei adesso giusto sì sì assolutamente mi sono laureato con la laurea magistrale l'anno scorso gli ultimi anni sono stati difficili dal punto di vista fisico ho avuto veramente tanti infortuni l'anno scorso è stato veramente dura arrivare alla fine quest'anno poi ho deciso di intraprendere questo percorso cercando di iniziare il prima possibile a fare quello che per il futuro spero sia il mio lavoro io adesso parto da mio pensiero dove ogni giorno cerco di migliorarmi studiare, aggiornarmi, mettere in campo o in pratica quello per il quale mi preparo e studio poi certo gli errori fanno crescere ma ogni giorno è importante un giorno dopo l'altro per cercare di migliorare sempre perché il miglioramento deve essere continuo e costante poi penso alla base di questo lavoro ma anche di altri lavori ci sia l'entusiasmo la passione la perseveranza per migliorare e crescere lo stesso dal mio punto di vista come può essere un giocatore come un mister in qualsiasi ambito penso sia questa la chiave del successo no no infatti penso sia appunto la chiave sia sempre migliorarsi poi nello sport viene anche più facile pensarlo non facile farlo ma facile pensarlo perché poi l'obiettivo appunto è sempre lì che differenza c'è tra il giocare essere un giocatore proprio di una squadra di vertice e essere invece il preparatore atletico cioè come pensi la settimana come pensi la partita che differenze ci sono diciamo quando sei un giocatore sai che attorno a te ci sono altri 20 giocatori quando sei in uno staff tecnico sai che sei te il mister magari un vice allenatore il mister dei portieri lo staff tecnico è composto da 3-4 persone a volte 5 dove con 5 persone devi tenere gli occhi addosso a 20 ragazzi quindi è un lavoro un po' più individuale sempre di staff dove ogni lavoro ogni compito di ogni persona si va a integrare con il compito di ogni altra persona dello staff tecnico io mi trovo benissimo con i mister con tutti e due i mister mi sono trovato bene in questo momento è arrivato il mister Dario che non conoscevo dal punto di vista tecnico del suo modo di lavorare inizialmente abbiamo cercato di capirci bene come integrare il mio lavoro al suo e adesso piano piano stiamo migliorando ci confrontiamo spesso e questo penso sia la base di andare avanti e lui vedo un uomo veramente per bene onesto e infatti mi piace veramente lavorare con lui in questo modo siete primi a 57 punti lo dicevamo prima con la classifica primi insieme al mapello è un testa a testa e insomma nelle ultime giornate già adesso forse un paio di turni fa non ricordo bene eravate riusciti a tornare al primo posto insomma si è lì è snervante è piacevole è dalla carica com'è insomma essere testa a testa e tra l'altro con la Leone che è dietro un punto però sì sì no questo campionato è veramente combattuto io penso che noi facciamo il nostro percorso guardiamo solo in casa nostra ogni domenica sappiamo che l'unico obiettivo è vincere fare una grande prestazione poi la settimana noi pensiamo solo a noi stessi cerchiamo di migliorarci in modo che arriviamo alla domenica nelle migliori condizioni possibili i ragazzi stanno dando veramente tutto noi ci alleniamo dal martedì al sabato e la domenica giochiamo al campo due ore di lavoro al giorno è importante penso sempre sia quello che avviene fuori dal campo perché due ore di campo e poi ci sono il resto sono 22 ore dove 22 ore è importante il recupero il riposo tutto l'alimentazione tutto ciò che faccia il giocatore lo metto nelle migliori condizioni possibile per arrivare in allenamento e la domenica poi è la conseguenza di quello che fa in settimana diciamo prima Trebbiano campo difficile e insomma c'è stata questa vittoria importantissima domenica arriva la Visnova che è ultima in classifica ci può essere un calo di tensione in questo caso oppure visto che appunto stavano dicendo prima questo testa testa in vetta invece può comunque dare la carica anche in una partita un po' più magari abbordabile con tutto il rispetto sono convinto che non ci sarà nessun calo di tensione noi domani ripartiremo con l'allenamento e sappiamo che domenica è una partita finale come tutte le altre che siano secondi che siano ultimi ogni partita è una guerra tra l'altro la Visnova Giussano è una squadra che si deve salvare quindi dentro di loro troveranno anche forze in più per cercare di fare punti ma noi siamo consapevoli che tutto dipende da noi quello che mettiamo in campo la domenica dobbiamo dare tutto tutto fino alla fine sono sicuro che faremo il nostro meglio da domenica fino alla fine abbiamo parlato prima di giocatori in senso proprio nel senso del gioco vero e proprio cioè sono comunque top player in categoria alcuni perché è evidente però c'è anche un bel gruppo un grande gruppo insomma intorno insomma come lo vedi questo gruppo il gruppo è veramente fantastico io penso che la differenza la domenica uno va allo stadio e vede magari gli undici che iniziano dall'inizio e i tre quattro ragazzi che entrano dalla panchina ma la differenza la fa sempre la settimana e i giocatori i ragazzi che giocano meno che in campo in allenamento danno sempre tutto rendono gli allenamenti massimo professionali l'intensità tengono alta l'intensità nonostante qualcuno la domenica non faccia un minuto c'è anche chi va in tribuna la nostra rosa è numerosa ma la differenza sarà proprio in quei ragazzi che in allenamento nonostante la domenica non facciano un minuto non si abbattono arrivano con il sorriso con la loro possibilità e questo fa sì che noi la domenica il nostro gruppo è compatto unito siamo bene perché ci alleniamo bene grazie ai ragazzi che in allenamento danno tutto come è stato passare a essere compagno di alcuni a essere il prof praticamente come si approcciano a te quelli che l'anno scorso ti conoscevano già come giocatore io ringrazio i ragazzi perché da parte loro ho trovato dal primo giorno la massima professionalità nei miei confronti nonostante con tutti ho avuto un bellissimo rapporto da compagno di squadra loro mi rispettano ho cercato dall'inizio di farmi trovare pronto essere il massimo preparato professionale è importante collaborare con loro cercare di entrare nelle loro teste soprattutto anche i ragazzi che non conoscevo è importante essere per loro un amico un compagno dove tu leggi il loro stato d'animo ci sono dei momenti poi difficili dove purtroppo nel calcio avviene che ci sono degli infortuni la cosa più brutta di un giocatore non è quando sta in panchina che sta bene la cosa più brutta purtroppo è quando c'è un infortunio sei costretto a stare lontano dal campo e c'è da fare un percorso di recupero io in questo cerco di seguirli anche in un percorso di recupero dove magari lavoriamo in palestra un percorso dove facciamo dei vari step in base ai giorni posto di infortunio e da quella parte lì poi cerchiamo di rientrodurre piano piano il ritorno in campo questa è una fase molto delicata perché prima di tutto il ragazzo è giù di morale giù di morale quindi tu devi stare vicino fargli capire che tornerà più forte di prima perché questo con il lavoro è così se uno lavora più degli altri si concentra sui punti deboli soprattutto quando è infortunato quando rientra in campo lui può solo che star meglio anche di come era prima quindi è importante cercare di trasmettere lui la forza la voglia e la consapevolezza che lui tornerà più forte di prima e questo è la base di un percorso di recupero e beh immagino tra l'altro adesso fra poco andremo anche a vedere insomma andremo anche a parlare proprio dell'allenamento sia individuale sia di squadra prima volevo far volevo mostrare un contributo particolare perché insomma nei giorni scorsi Nico Rodriguez è diventato papà del piccolo donato i tifosi hanno insomma creato uno striscione apposta apposta per lui ma non solo è arrivato anche un contributo di un campionissimo che ve lo mostriamo ciao Nicolas sono Gigi Buffon e colgo l'occasione per farti tantissimi auguri e tantissimi complimenti per la nascita di donato so che non sei potuto andare a raggiungere e star vicino a tua moglie per il parto perché il nostro lavoro purtroppo delle volte non ci permette di vivere determinate emozioni ma sono sicuro che il nostro donato quando sarà grande capirà il motivo e capirà il perché tanti auguri ancora un abbraccio grande da Gigi ciao ciao e questo appunto era già Luigi Buffon che ha mandato un augurio a Nico Rodriguez e a suo figlio insomma quindi è bello anche vedere quando i campioni grazie al direttore sportivo Cristian Salvador quando i campioni si approcciano alla nuova sondra immagino che insomma faccia piacere al giocatore ricevere o anche ai giocatori quando ci sono anche ci sono stati anche video messaggi di campioni per tutta la squadra si si fa piacere fa molto piacere vedere i saluti gli auguri per il nostro portiere da parte di Gianluigi Buffon un idolo penso per il 90% di chi inizia a fare il portiere soprattutto in Italia ma anche nel mondo il nostro direttore è un orgoglio è una fortuna averlo con noi io lo conosco da diversi anni ho avuto la fortuna di averlo sei anni fa in Serie D alla San Giovannese da lì poi mi ha contattato diverse volte nelle stagioni successive e alla fine sono andato sono arrivato con lui al Sondrio appunto lo scorso anno in promozione veramente un professionista che lavora tutto il giorno veramente sempre sul pezzo e non ci fa mancare niente quindi è un piacere e un orgoglio averlo con noi e beh immagino insomma immagino che sia proprio un orgoglio anche appunto torniamo a parlare di allenamento perché ci sono allenamento di squadra allenamenti specifici per ogni per ogni giocatore insomma com'è la settimana di un giocatore vista dal preparatore atletico però sì solitamente il martedì riprendiamo la settimana dove viene svolto un lavoro differenziato fra chi la domenica ha svolto totalmente la partita e il lavoro dei ragazzi che hanno giocato meno oppure non hanno giocato è differente solitamente il martedì si svolge principalmente un lavoro aerobico quindi su lunghe distanze di corsa e lavori con il pallone solitamente su spazi un pochino più grandi questo perché il lavoro su spazi un pochino più ristretti tende a convolgere magari più frenate accelerazioni che da un punto di vista muscolare sono molto intense soprattutto per chi ha giocato la domenica quindi se magari svolgiamo un lavoro su campo ristretto viene svolto soltanto da chi non ha giocato la domenica e il martedì diciamo è il giorno dove corriamo un po' di più io mi piace molto lavorare sulla corsa perché penso sia fondamentale per star bene arrivare alla domenica in una condizione ottimale il mercoledì invece svolgiamo solitamente un lavoro con i pesi mi piace molto lavorare con i pesi e di solito una volta al mese tendo a lavorare su dei esercizi dove vado a caricare molto lavorando sulla forza massima e ognuno poi ovviamente anche in base al suo livello di forza ha un peso specifico qualche ragazzo magari alza un po' di più qualche ragazzo alza un po' di meno e questi esercizi poi verranno trasformati su esercitazioni dove appunto anche in queste esercitazioni ognuno avrà il suo peso specifico questo perché ognuno in base al suo stato di forza può alzare un tipo di peso sulla forza massima e a sua volta avrà un tipo di peso da alzare per quanto riguarda un'alzata dove io lavorerò più specifico sulla potenza mi piace molto lavorare sugli sprint io utilizzo uno strumento dove c'è un cavo collegato a questo attrezzo che praticamente corrisponde a un traino l'unica differenza da un traino è che la resistenza di questo cavo è costante a differenza del traino che tu parti con il traino e quando tu inizi a aumentare la velocità il traino perde comunque la sua resistenza mentre in questo caso la mia corda rimane una resistenza costante dove il giocatore rimane con la sua base di forza costante per il tempo questo perché il lavoro più specifico sulla potenza che è data appunto dalla forza per velocità e penso che sia molto importante dal punto di vista proprio fisico lavorare su questo tipo di specialità per lavorare sull'accelerazione perché l'accelerazione mi permette di lavorare sulla velocità raggiunta nel minore tempo possibile infatti io penso che un calciatore più che veloce debba essere potente soprattutto in queste categorie dove troviamo tanti campi sintetici tanti campi piccoli dove negli spazi stretti conta più l'essere reattivo il potente quindi raggiungere la massima velocità possibile nel minore tempo che essere veloce quindi un ragazzo veloce che ha bisogno di esprimere la sua velocità massima su 80-100 metri io preferisco un ragazzo che in 10-15 metri già raggiunge la velocità massima o quasi submassimale avendo anche come strumentazione GPS riesco a vedere le velocità di ogni ragazzo e da quel punto di vista poi cerco dell'allenamento su un ragazzo che magari ha già una buona velocità ma in allenamento vedo che gli manca un po' di potenza di lavorare su intensità più basse più specifiche sulla potenza mentre un ragazzo che vedo dai GPS che non raggiunge mai velocità altissime cerco a volte di inserire esercitazioni più specifiche per la velocità massima perfetto come tra l'altro stiamo appunto anche vedendo dei video degli allenamenti alla Castellina insomma che sono appunto i tuoi allenamenti con i ragazzi andiamo ora a parlare del settore giovanile invece perché insomma oltre lo spazio della prima squadra abbiamo sempre anche lo spazio del vivaio appunto della Nuova Sondrio la Juniore è stata la sconfitta dall'Albino Gandino alla Castellina per 2-0 e a tre giornate dal termine resta complicata la situazione in classifica dei Sondresi terzultimi con 23 punti in zona play-out e sono attesi sabato prossimo dal Luciano Manara quinta in graduatoria gli allievi hanno vinto hanno colto 3 punti d'oro vincendo 3-2 contro la Juveniglia in casa e vanno così a 22 punti a 2 lunghezze dalla zona play-out domenica prossima trasferta sul campo del Cernusco i giovanissimi Under 15 hanno vinto 10-0 contro il Ponte mentre l'Under 14 ha vinto 5-0 con il Missaglia e l'attività di base ha giocato sia gli esordienti se i Pulcini nei propri campionati gli esordienti hanno giocato contro la Talamonese e hanno poi disputato una partita in Valmalenco mentre i Pulcini hanno giocato i due incontri di campionato con la Pontese e con la Chiavennese B Tommaso tu lavori con il settore giovanile giusto? Sì ho iniziato una collaborazione con la Juniores da circa un mese da quando è arrivato sulla panchina il mister Sergio Zanetti ci siamo trovati bene fin da subito anche in questo caso non conoscendo dal punto di vista sia come persona che come punto di vista tecnico mi ho cercato gradualmente di integrare il mio lavoro al suo è stato semplice ci siamo trovati bene fin da subito e anche nel suo caso penso che sia veramente un grande professionista è un piacere lavorare con lui purtroppo sabato abbiamo perso abbiamo disputato un grande primo tempo poi nella ripresa abbiamo subito questi gol la partita si è complicata è stata difficile arrivare in fondo e cercare di rimettere in piedi il risultato non ci arrenderemo adesso rimarranno tre partite da giocare eventuale play out e questo sarà un mese importante dove cercheremo di lavorare fin da subito dal punto di vista fisico ancora di più per farci trovare pronti queste ultime tre partite nel caso ci sia bisogno di un eventuale play out che sono sicuro daremo filo da torcer a chi ci ritroveremo davanti e poi ci sono anche i piccoli amici e poi ho seguito dai fine agosto i piccoli amici i bambini di 4-5 anni con il quale mi trovo benissimo io penso alla base soprattutto dei bambini di questa età ci sia il divertimento quindi quello che facevo io da piccolo che tutto il giorno uscivo di casa dalle due di pomeriggio all'otto di sera al parco ai giardini a giocare a pallone con i miei amici adesso magari si è perso un po' questo tipo di vita soprattutto nei bambini con l'avvento di telefonini giochi di ultima generazione negli allenamenti loro cerco il massimo del divertimento del pallone e del gioco questo penso sia fondamentale per questi bambini immagino immagino grazie mille Tommaso Del Nero preparatore atletico della nuova Sondro Calcio grazie mille per questa chiacchierata che insomma non è mai abbastanza ma ovviamente il tempo è tiranno e dobbiamo dobbiamo chiudere qui grazie però davvero grazie mille a voi è stato un piacere come sempre come sempre grazie mille in bocca al lupo ovviamente per il proseguire del campionato e l'appuntamento è sempre qui sul canale 75 di Unica TV grazie mille